Sono Stefania Ricci, mi occupo del Museo di Ferragamo e chiaramente io cercherò di essere molto breve perché poi oggi pomeriggio, finita la sessione di lavoro, verrete a vedere il museo vero e proprio. Il museo e l'archivio dell'azienda è concentrato intorno alla figura del fondatore. Molti di voi sanno chi è Salvatore Ferragamo, ricordo soltanto le tappe fondamentali di questo artigiano nato alla fine dell'Ottocento in un piccolo paese del Sud Italia. Nel 14 immigra negli Stati Uniti e dagli Stati Uniti diventa famoso a Hollywood iniziando proprio facendo scarpe su misura prima per alcuni film dell'epoca e poi per le attrici che erano le protagoniste di questi film. Ancora non si parla di azienda ma si parla soltanto di un artigiano, un artigiano che spesso veniva confuso addirittura con un nome americano. In quanto quando nel 27 Ferragamo ha deciso di tornare in Italia proprio perché non riusciva a seguire le richieste della clientela da solo con i suoi fratelli ma aveva necessità di maestranze artigiane italiane brave, quindi ha deciso di fare il rientro in Italia e ha scelto Firenze, una città per lui nuova in quanto lui non era fiorentino, ma ha scelto Firenze perché Firenze era il luogo di uno straordinario artigianato e di un'arte famosa in tutto il mondo proprio perché negli anni 20 l'Italia era famosa nel mondo per Firenze, cioè non esisteva un'idea di cultura generale italiana ma soprattutto per gli americani l'Italia era rappresentata dal rinascimento fiorentino. Quindi questa scelta è una scelta anche di marketing e non solo emozionale, porta Ferragamo a Firenze e lì ha inizio la Salvatore Ferragamo, cioè l'azienda che porta il suo nome e di cui anno scorso abbiamo proprio celebrato gli 80 anni di esistenza. Quando muore nel 1960 l'azienda ha 750 calzolai con una produzione di 350 paia di scarpe al giorno, il che vuol dire che praticamente occorrevano due operai quasi per fare un paio di scarpe, erano tutte scarpe fatte a mano, quindi era una produzione molto limitata rispetto a quella, all'evoluzione che l'azienda ha avuto successivamente. Le scarpe di Ferragamo, credo, anche se io mi occupo di questo museo, credo però a livello universale, sono considerate proprio degli oggetti di straordinario artigianato ma anche di straordinario design, che hanno segnato proprio l'evoluzione della storia della calzatura. Ha sperimentato Ferragamo quasi tutto, una grandissima quantità di materiali, non quelli anche tradizionali, delle scarpe come sono i pellami, ma soprattutto materiali poveri, il sughero, il cello, fanno durante il periodo della guerra. Ha brevettato 400 invenzioni, ritrovamento appunto nell'archivio di Stato di tutti i brevetti di Ferragamo, fa sì che la Ferragamo è l'azienda di moda che ha il più alto numero di brevetti. Lui concepiva proprio l'oggetto calzatura, anche se fatto a mano e spesso prodotto quasi esclusivo per una persona, con un concetto del design, pensando anche alla sua serialità. Questo è un fatto che rende veramente la figura di Ferragamo un grande intuitivo. Ha calzato le donne più importanti e più famose del mondo, non solo le regine e le principesse, ma le dive di Hollywood, tutte, da quelle degli anni 20 a quelle degli anni 50. Vedete qui Marilyn Monroe in una foto celebre con le scarpe di Ferragamo. Tutti i film di Marilyn Monroe, in tutti i film, lei porta sempre scarpe Ferragamo. Scarpe che abbiamo ricomprato nel 99 a New York ad un'asta di Christie's, pagandole anche molto, solo un paio, 42 mila dollari, e quindi immaginatevi l'investimento, un investimento che però è stato giusto per l'azienda, perché poi chiaramente è diventato un fondo importantissimo del nostro archivio. Vedete anche una delle scarpe più famose, è la scarpa invisibile del 1947, appena finita la guerra. Ferragamo è il primo italiano, e soprattutto il primo calzolaio, ad avere questo Oscar della moda. Lo riceve insieme a Dior, Dior per il New Look, e Ferragamo per questa creazione, che è la scarpa invisibile fatta col materiale più nuovo del dopoguerra, il nylon, la lenza da pesca. Lui prende ispirazione dai pescatori sull'Arno e fa questa scarpa, se volete pubblicitaria, non è certo l'esempio massimo della comodità, che però è pubblicata su tutti i giornali dell'epoca, anche su quelli francesi, che come ben sanno gli studiosi di storia della moda, non erano molto propensi, nemmeno ora, figuriamoci negli anni 40, a pubblicare creazioni italiane. Ecco un esempio della scarpa, di una scarpa patchwork del 1942, quando appunto Ferragamo tornò dall'America a Firenze, era il periodo anche dei futuristi, le scarpe di Ferragamo vennero proprio classificate da Attaia, come queste, dice, le scarpe di questo americano sono scarpe futuriste, in quanto lui rivedeva, riconosceva proprio uno stile tipico degli artisti dell'epoca. Questo è il sandalo Kimo, che corrisponde alla prima sfilata di moda italiana a casa di Giorgini, Ferragamo fece questa scarpa per gli abiti di Schubert, che si chiama Kimo, ispirato a un altabi giapponese, e con questa denominazione, che è una riduzione dalla parola Kimono, è un sandalo con tre calze intercambiabili. Veniva così venduto, in modo che uno poteva avere sandalo aperto, scarpa chiusa, e poteva variare la calzetta a seconda del vestito. Il museo quando è nato? Questo museo d'impresa, cioè un museo aziendale, quindi si parla di archivi, ma a questo punto si chiama museo, è sorto. Come museo è stato inaugurato nel 95, ma c'era un lavoro decennale iniziato nell'84, di cui Cristina Piacenti è stata proprio, insieme a Fiamma Ferragamo, la prima ideatrice, è stata fatta questa famosa mostra a Palazzo Strozzi sulla storia di Ferragamo, e da lì poi è nata l'idea di conservare non solo l'archivio, ma anche di trasformarlo, di mettere questo archivio a disposizione del pubblico in un museo. È localizzato nella sede storica, questa è sempre stata la sede della Salvatore Ferragamo, è stato acquistato da Ferragamo nel 1938, il Palazzo Spiniferoni. È interessante che il museo è, diciamo, legato al core business dell'azienda, cioè non c'è stata nessuna vergogna nel volere aprire un museo dove l'oggetto sono le scarpe, le scarpe, che è, diciamo, il prodotto per cui la Ferragamo è leader nel mondo. Viene finanziato dall'azienda e un'altra, diciamo, volontà degli imprenditori è di aver scelto a gestire il museo un personale specializzato, cioè non un personale che veniva dalla comunicazione o appunto dalle pubbliche relazioni, ma specializzato in archivistica e in storia dell'arte. E questo è un po' il gruppo che sta lavorando adesso, tuttora, alla gestione del museo. Il primo vero archivista in realtà è stato Salvatore Ferragamo, perché è lui che ha tenuto fin dall'inizio i prototipi, la rassegna stampa, i brevetti, alcune copie di brevetti, perché poi tutti li abbiamo recuperato, come ho detto recentemente, all'archivio di Stato di Roma. L'esposizione è arrivata dopo un decennale lavoro su cercare di mettere insieme tutto questo materiale. Vedete, c'è una biblioteca specializzata, un archivio che è fatto da tanti fondi. Nel 2005, un passo successivo, che a mio avviso è stato molto importante, il museo inizialmente era al secondo piano, quindi era visibile, diciamo, solo su prenotazione, era ancora considerato, diciamo, un salotto buono dell'azienda, è stato fatto il salto di dargli uno spazio nel basamento di Palazzo Ferroni, con accesso su strada, quindi con un'apertura non legata all'apertura del palazzo, ma assolutamente indipendente, con un biglietto di ingresso di 5 euro, il cui ricavato viene a fine anno devoluto per finanziare dei giovani ragazzi che vogliono intraprendere l'attività di stilisti nel settore calzature. L'archivio, o meglio, i fondi dell'archivio sono solo le scarpe, sono 14.000 modelli, abbiamo un archivio abbigliamento che abbiamo finito di sistemare una settimana fa, che sono 3.000 pezzi, abbiamo un archivio sete e bijoux che sono più di 2.000 pezzi, un archivio che noi chiamiamo oggetti, dove ci sono gli strumenti da lavoro, i pellami, moltissimo materiale, un archivio documentario straordinario, un archivio bibliografico con tutta la rassegna stampa. Io penso che non vedrò la fine di questo lavoro, perché è veramente un patrimonio di cui forse nemmeno la stessa famiglia Ferragamo si conosce veramente l'entità. È una mediateca dove sono 10.000 pezzi tra fotografie e filmati. È un archivio mostre, perché all'interno di un museo aziendale è molto interessante anche conservare tutto questo che è legato a un'iniziativa, come un evento, una mostra, quindi materiale promozionale, oggetti o prodotti fatti anche per l'occasione. Per dire, il biglietto, diciamo, la giornata di oggi finirà in un settore dell'archivio del museo. La finalità del museo, oltre a raccontare la storia del fondatore, perpetuare questo mito del fondatore, salvaguardare il patrimonio, come è stato detto più volte stamattina, è conservare il patrimonio, che rappresenta non solo la memoria di quest'impresa, ma di tutto un territorio che è legato, nello specifico, al settore calzature, al settore pelle. Offrire anche una serie di supporti e di tool all'esterno come integrazione storica all'immagine dell'azienda. Cioè avere memoria, avere una tradizione, oggi lo sapete meglio di chiunque altro, rappresenta un grandissimo valore, forse uno dei primi valori, per poter vedere un futuro del Made in Italy. Tra le finalità è quello di ideare mostre, incontri di studio, siamo stati ben lieti di ospitare questa occasione, perché fa parte proprio dei nostri obiettivi, e di mostrare sempre l'apertura, nelle varie attività che il museo fa, l'apertura che ha l'azienda, facendo un prodotto di moda, quindi contemporaneo, verso ciò che accade nel intorno e quello che accade nel contemporaneo, da tutti i punti di vista. Vi faccio un esempio, questa è un'iniziativa legata all'apertura di un negozio, il grande flagship store di New York, sede storica della Ferragamo dagli anni 40. nel 2003 è stato inaugurato con una mostra, un prototipo, un modello, forse quello più antico della collezione, che ha un brevetto, e il brevetto si chiama labirinto, ha dato voce a una nuova scarpa. Il nome si chiamava Game, e Game è diventata la mostra, dove 19 artisti contemporanei, scelti da tutto il mondo, hanno interpretato questa calzatura. E questo, chiaramente, gruppo di 19 opere, fa parte ora, anche questo, della collezione del museo. L'archivio offre continue fonti di ispirazione all'azienda, non solo nella parte prodotto, ma nel marketing, nella comunicazione. Organizza poi dei training, cioè chi entra in Ferragamo inizia sempre dal museo. Bisogna capire dove siamo, respirare quella che è la storia di questo marchio. Sul prodotto vi faccio pochi esempi. L'utilizzo, ad esempio, dei materiali inconsueti, le forme, dei tagli, le lavorazioni, la paletta dei colori, che sono dei colori molto precisi, come vedrete nella mostra che è ancora allestita al museo Ferragamo. Un esempio, questa è una borsa storica degli anni 90, quindi non lontanissima, ormai per noi è però storica, che ogni stagione veniva interpretata con materiali diversi, come aveva insegnato Salvatore Ferragamo nelle scarpe. Quindi dal midollino, al legno, al carbonio, alla gomma, all'alluminio. Patchwork. Il patchwork è stato forse uno dei temi più amati da Ferragamo fin dagli anni 20. Vedete un'interpretazione degli anni 40 e come ha dato vita ad una serie di prodotti nel 2000. La Marani, che è anche nel manifesto del museo, è una scarpa che è stata creata nel 1938 per Indira Devi, la Marani di Cochbear, una delle donne più famose di quegli anni, bellissima, viveva quasi sempre a Londra, lei era cliente di Ferragamo per le scarpe e per i gioielli di Cartier. Vedete come questa scarpa ha stato, ha, diciamo, suggerito una serie di modelli quando è stato aperto un grande flagship store a Tokyo nel quartiere di Ginza. Le forme, la forma della zeppa, la zeppa è uno dei brevetti forse il più celebre, 1937, ci tengo sempre a dirlo perché pensate che la zeppa poi è diventata famosa nel periodo della guerra, non così presto. È un brevetto di Ferragamo. Una delle varianti della zeppa è quella del sandalo invisibile che è un tema, vedete, una forma che è sempre ripresa in tutte le collezioni Ferragamo fino ad oggi. Le lavorazioni artigianali, qui un tempo tutte le scarpe erano fatte dall'inizio alla fine a mano, adesso solo una parte è fatta a mano, esiste però alcuni settori dell'azienda tipo per l'uomo la tramezza che sono ancora lavorate artigianalmente. I colori, l'ho già detto prima, il marketing, relazioni con il cinema, Ferragamo ha vestito tutte le attrici più famose dell'epoca, ha partecipato anche collaborando ad alcuni film, qui a qualcuno piace caldo, e vedete recentemente la mostra, la mostra, scusate, il film di Australia con Nicole Kidman, la Ferragamo ha prodotto per questo film ambientato negli anni 30 20 modelli d'archivio che vedrete giù allestiti nel museo. Le Ferragamo Creations, ci sarà un altro intervento che parlerà in maniera più dettagliata di questo aspetto. Questo è stato voluto proprio dalla famiglia Ferragamo di creare con l'inaugurazione del nuovo museo una sezione di riedizioni storiche che tutti i clienti chiedevano. Allora è stato gestito, viene gestito in un settore particolare che si chiama Ferragamo Creations, è l'etichetta storica di Salvatore Ferragamo dove, essendo vivo lui, non c'è la parola Salvatore. L'allestimento è completamente diverso dal resto del negozio, è come un atelier degli anni 50, quindi come un luogo proprio di summisura, di alta moda, vengono rieditati pezzi celebri solo in edizione limitata. Ogni scarpa ha un suo certificato e ne vengono prodotti solo 150 pezzi in tutte le misure, pochi modelli per stagione. Anzi, non esistono neanche stagioni perché in questo caso non ha senso. Vedete, c'è una bigiotteria che è nata successivamente ma sempre legata alle scarpe storiche. Infine, vedete la parte anche di comunicazione, cioè gran parte della comunicazione dell'azienda non può prescindere dall'esistenza della sua storia, dell'archivio, quindi materiale viene fornito alla stampa, editoriali, collaboriamo con tantissimi giornalisti anche per aiutarli quando fanno dei pezzi legati a dei prodotti speciali nel fornirli materiale storico e informazioni. E questo aiuta per il packaging, aiuta per le vetrine. Infine, l'ultimo evento, come celebrare 80 anni dell'azienda. La Ferragamo, è vero, ha fatto anche una sfilata a Shanghai, però ha pensato che forse la cosa migliore era una mostra e senza quest'archivio non sarebbe stato possibile. 80 anni di storia dell'azienda, è stata una grande impresa, perché siamo arrivati anche a due anni fa, quindi era abbastanza difficile vedere un po' dall'alto tutto il prodotto, cercando di coinvolgere non solo le scarpe, ma l'abbigliamento, la parte storica, i foulard, le borse, cioè tutto quello che è la storia di questa azienda. E ho scelto solo due immagini, questi sono i simboli della Ferragamo. La borsa che avete visto prima, è una borsa che si chiama Gancino, e che è questa chiusura particolare delle borse Ferragamo, la famosa scarpa vara, creata non da Salvatore, ma da Fiamma, nel 1978, è la scarpa più venduta del mondo, e diciamo un pezzo ormai che è entrato nella storia, non solo dell'azienda Ferragamo, ma proprio della moda. E infine, una delle stanze che piaceva di più, quella molto importante per l'azienda, il successo della Ferragamo e di Salvatore è stato le sue scarpe rambelle e comode. Come rappresentare il comfort? Nessuno sapeva, si scrive, ma non si visualizza, che ogni scarpa Ferragamo da uomo ha 52 misure diverse a modello e 82 quelle da donna. Allora l'abbiamo mostrato, per far vedere, uno si può immaginare gli stock di un negozio Ferragamo per ogni modello. E la Meritalia ha voluto realizzare queste poltrone dove la gente poteva accomodarsi e respirare l'aria di comodità. Grazie. Grazie.